L'idea di partenza era come il mondo era stato devastato rispetto al problema ambientale, rispetto al problema dell'aumento delle temperature globali. Questo smarrimento totale di consapevolezza, di etica, di responsabilità nei confronti del futuro, dei giovani, questa assoluta mostruosità nella quale si può rappresentare, immaginare il mondo oggi. E partendo da questo mi sono riferito a questi personaggi, come dire, queste persone che hanno speso la loro vita, hanno dato il meglio che avevano, ci hanno lasciato un sacco di cose strepitose, ognuno con i suoi grandissimi valori indiscutibili, non ha saputo trattenere niente. Perdita di dignità, perdita un po' di tutto, degli aspetti fondamentali che rendono possibile la vita sulla terra, non perdita di qualcosa di superfluo, perdita dell'essenziale, di quel baricentro etico e di trovare quindi un'elasticità di tolleranza all'interno della società, cosa che oggi manca. Grazie.